Parlerà di miracolo sportivo coach parente al termine della gara. La vittoria della Palacanestro Trapani nel derby con Capodorlando ha tutti gli elementi per essere definita così. Senza tre quinti del quintetto base con Tomasini al rientro dopo tre mesi, la vittoria degranata con Capodorlando al completo non era per nulla scontata. E infatti è stata tutt'altro che una partita facile, sempre sul punto a punto con piccoli strappi da una parte e dall'altra che non hanno superato le dita di una mano. Chiuderà con 28 punti seco Wiggs e buono l'impatto del rientrato Simone Tomasini, due punti d'oro che sanciscono l'ottavo posto in classifica. Questo il commento post gara di coach parente. Credo che abbiamo fatto un mezzo miracolo, se non un miracolo intero perché mancavano i tre italiani del quintetto base, uno ha finito la stagione, gli altri due punto interrogativo, non sappiamo. Un giocatore non giocava una partita da tre mesi e l'altro aveva il covid. In più Taflai ha saltato due allenamenti durante questa settimana. I tiri liberi sono più o meno uguali, c'è sei tiri liberi di differenza, le percentuali sono uguali. Direi che siamo stati bravi a rimanere in partita quando sembrava persa, invece con gli episodi, anche se dovevamo essere un pochino più bravi a gestire due o tre contropiedi dopo aver fatto due o tre ottime difese, invece gli abbiamo regalato la palla, non abbiamo fatto fallo quando dovevamo farlo, non eravamo in bonus, però ti ripeto, la forma a volte bisogna chiudere un occhio e mezzo, la sostanza è stata tanta e devo solo ringraziare chi è sceso in campo per due minuti, per 38, perché non è stato dalla pausa fino a ieri un periodo facile. Grazie a tutti.